Questa opposizione a Federica Mogherini le pare un ostacolo solo montattimo? Io non ho visto opposizione a Federica Mogherini, nel senso che non c'è stato alcun tipo di messaggio negativo che pure avevo letto sui giornali rispetto alla ipotesi di candidatura di Federica Mogherini. Quindi secondo lei è possibile ancora far convergere una serie di paesi e magari per una brutta maggioranza funzionare? L'obiettivo dell'Italia non è avere una poltrona o un posto, l'abbiamo detto fin dal primo giorno. Oggi si è fatta una riunione che avrebbe potuto essere un pochino più incisiva se fosse stata preparata meglio perché ci hanno fatto venire su dicendo che avremmo chiuso l'accordo e poi con molta gentilezza, con la gentilezza che gli è propria, il Presidente Farron poi ha spiegato che l'accordo non c'era e io mi sono permesso di dirgli che se la prossima volta ci mando un messaggino e ce lo dice prima risparmiamo i voli di Stato per venire a Bruxelles e per voi soprattutto risparmiamo di farvi fare le due di notte, al che è nata una discussione molto seria sulle varie ipotesi con tutta una serie di considerazioni anche molto corrette, però nessuno ha posto il tema di qualche veto sulla candidatura italiana e anzi direi che la sintesi che ha fatto Hollande e la Merkel è stata direi prima quella di Hollande dice l'altro rappresentante sarà socialista, questo mi pare che sia una condivisione praticamente di tutti e non c'è altra candidatura che la candidatura dell'Italia, così è stato definito al tavolo. Hollande ha aggiunto che, e la Merkel ha condiviso, il Presidente del Consiglio deve essere un Presidente che rappresenti tutti, io condivido, quindi deve essere scelto non necessariamente sulla base dell'appartenenza politica perché il Presidente della Commissione Popolare chiama il primo Vicepresidente socialista, il Presidente del Consiglio deve rappresentare tutti. Hollande ha detto che per lui deve essere uno dei 28 che sta al tavolo, non importa se è della zona euro o no e su questo ho trovato un'ampia condivisione. Noi siamo disponibili a tutte le soluzioni anche rispetto a alcuni temi italiani che tutte le volte vedo nei giornali italiani e poi non vedo altrove. Noi se c'è un nome italiano, ho sentito a letto questo pomeriggio il nome di Letta, stamattina ho sentito il nome di Monti. Noi siamo disponibilissimi da tutti i punti di vista a qualsiasi soluzione, quindi non abbiamo un problema di un posto che o quello o morte. Quindi non abbiamo, soltanto che non c'è nella discussione, c'è nella discussione dei giornali, accende i giornali e affascina i media, però poi Filippo mi manda i messaggini dicendo ma c'è questo nome? Io rispondo no, però magari ce lo mettiamo, ma non è questo il nome. La sintesi di oggi è che è stata una bella occasione per vedersi tutti insieme, si poteva forse evitare visto che non c'era l'accordo, ma è stata l'ottima occasione per fare gli auguri di compleanno alla signora Merkel, per fare un paio di documenti importanti che peraltro erano già ampiamente condivisi sull'Ucraina e il Medio Oriente, come sapete è stata una nostra richiesta che se ne parlasse e mi pare che la sintesi che ha fatto François Hollande e prima di lui Angela Merkel sia molto buona, cioè che l'alto rappresentante tocca i socialisti, poi il fatto che ci sia in pista la sola candidatura italiana, almeno per il momento, mi sembra, quello che mi riguarda arrivo a dire persino secondario, nel senso che noi siamo qui pronti a offrire una mano, se c'è uno più bravo dei nostri ce lo dicano, mettiamo uno dei loro, cioè non abbiamo un problema. Questa è una bella domanda che io ho fatto come lei, però io l'ho fatta a Farrón Poi, c'è la conferenza in corso di Farrón Poi, io sono entrato nel merito delle discussioni perché come sapete quando si fanno queste riunioni, io sono sempre entusiasta di dire a Bruxelles, lo sapete, però nel momento in cui mi è stato fatto il ragionamento sulla necessità del compromesso nella società globalizzata, ho chiesto, mi dite quali sono i problemi, a domanda esplicita che sarà fatta da alcuni colleghi, l'osteaco, il belga, diverse persone sono intervenute e poi l'intervento finale di François, nessuno ha posto problemi sulla candidatura italiana, quindi non credo fosse un problema su di noi, il resto sarei stupito del... Possiamo deburre quindi anche che in un'unità solidale accetterebbe un nome alternativo al quello della Moverini, ovviamente. Questa discussione, vedo che lei ha colto il senso profondo dello spirito europeista e anche come dire qualche decennio di valutazioni del nostro paese, tutte finalizzate a un nome, a una poltrona, a un posto secondo lei, io ho una visione un pochino diversa. In 57 anni l'Italia non ha mai usato il potere di veto in questo palazzo, non so se era sempre questo e cambiato, sarà cambiato, sempre questo, da 57 anni siamo qui, non abbiamo mai posto il veto nei confronti di nessuno e non l'abbiamo mai subito, non è accaduto nemmeno oggi, credo che questa fosse, se questa era la domanda questa sarà la risposta. Se l'altra era il... Può emergere prima o poi, questa è la domanda? Prima o poi può emergere tutto nel mondo occidentale, può succedere, si può succedere tutto, il punto centrale è che se l'alto rappresentante sarà socialista, vediamo, se sarà un uomo con esperienza non credo che sarà la Mogherini, se sarà un... come? Vogliamo fare... Mettiamoci a discutere dei nomi, vi vedo veramente appassionati al senso profondo della discussione, l'ho detto prima quel nome, altre domande? Sulle rinvie, no sul nome, sulle rinvie appunto a fine agosto, non si rischia di fare un assist di uno scientifico in questo momento? No, si rischia di fare un assist contro di noi che siamo venuti qui, però devo dire che Juncker ha fatto un bellissimo discorso, mi è piaciuto molto, discorso molto in linea con le nostre posizioni, questo è stato un fatto positivo, non era necessario fare il Consiglio Europeo in considerazione del fatto che l'avevamo sentito al Parlamento Europeo, però mi è piaciuto, mi ha convinto, un discorso giusto, corretto, molto puntuale, devo dire che quel tipo di messaggio lì è quello che serve all'Europa, a occhio direi che è abbastanza probabile che il 29 agosto, no, noi quando abbiamo fissato San Milano, il 30? 30. Ah, abbiamo fissato un sabato pomeriggio allo 4, credo che sia un assist agli neuroscientici, sì, perlomeno a far diventare chiave di governo agli neuroscientici. Sulle sanzioni all'Ucraina, l'Italia è pronta, oggi c'è stato il via libera politico, fino a che punto l'Italia è pronta ad andare e soprattutto le sanzioni americane oggi, che colpiscono anche Rosneft, che è un azionista di Pirelli, non possono avere delle conseguenze sul nostro paese? Era la stessa domanda, se non ricordo male, che mi è stata fatta qualche giorno fa a Palazzo Chigi, perché credo che fosse proprio nei giorni della presentazione della lista. Rispondo alla prima domanda, l'Italia è esattamente sulla stessa posizione degli altri paesi europei, anche questa continua polemica circa il ruolo dell'Italia, tutte cose che leggiamo, poi al Consiglio europeo non le dice nessuno, magari le pensano e non le dicono, oppure le raccontano tutti a voi, oppure viviamo in un tempo in cui chi ha qualcosa da dire lo dice sui giornali e non lo dice nelle assemblee, ogni riferimento per esempio a ciò che accade all'interno del mio partito è puramente casuale, non voluto, come ovvio che sia, però il punto centrale è che se qualcuno avesse dubbi sulla linea politica dell'Italia sappia che la linea politica dell'Italia è la stessa degli altri paesi, quindi chi mette in discussione l'Italia mette in discussione la Francia, la Germania, il Regno Unito, il G7, perché tutti i documenti che avevano fatte, le fatte insieme, non sono in condizioni di capire se le sanzioni americane verso, credo sia un membro del CDA di una società italiana, abbiano delle ripercussioni immagino sicuramente per gli americani, il livello di sanzioni che è stato definito, questa sorta di two plus è condiviso da tutti e 28 i membri dell'Unione Europea, io non vorrei tenervi qui troppo perché immagino che dovete prendere un aereo e tornare anche voi, magari domattina, io però adesso. Lei l'aspettano? Ma non so se vado io, non so se com'è la delegazione, non credo di andare io, non ho capito che delegazione hanno fatto, ora vado a prendere la linea sul PD, però è una bella domanda perché quando siamo qui, alla domanda sul 5 stelle vuol dire game over, la serata è finita, vi auguro. Avete parlato della situazione in Mezzo Oriente? C'è lo statement di Barroso in questo momento che vi inviterai a non perdere, sia quello di Barroso che quello di Barron poi. Poi? Grazie, buonanotte a tutti, arrivederci, ciao.